SOS lanciato dagli imprenditori turistici ericini, spente simbolicamente le luci delle proprie attività per dissentire dalle disposizioni dettate con l'ultimo DPCM dal Premier Giuseppe Conte. Ad oggi noi commercianti ericini riteniamo di non aver ricevuto i giusti aiuti economici per consentire la riapertura dei nostri locali. Per questo oggi, per l'ultima volta, spegneremo le luci delle nostre attività. Spengo per l'ultima volta le luci della mia attività. Per l'ultima volta spengo le luci della mia attività. Mi accengo a consegnare le chiavi e spengo le luci. Le luci per l'ultima volta. Accendo e spengo le luci per l'ultima volta e consegno le chiavi al comune. Spengo per l'ultima volta le luci del locale. Spengo per l'ultima volta le luci del mio locale. Spengo le luci per l'ultima volta. Spengo le luci per l'ultima volta della mia attività. Spengo le luci per l'ultima volta del mio locale. Spengo per l'ultima volta. Spengo le luci per l'ultima volta. Spengo per l'ultima volta. Spengo per l'ultima volta le luci della nostra attività. Per l'ultima volta spegneremo le luci del locale La ceramica ericina chiude per l'ultima volta le luci della sua attività Spengo per l'ultima volta le luci di quello che è stata sempre la mia passione Il mio negozio Anche noi spegniamo le luci per l'ultima volta della Residenza Martino di Erice A presto speriamo Grazie a tutti